Esistono già dei dispositivi point of care sul mercato, ma hanno ancora dei problemi irrisolti. Prima di tutto hanno un livello di accuratezza e precisione della misura insufficiente, hanno un'affidabilità modesta e non paragonabile a un laboratorio centrale, non sono così facili da usare in quanto sono di fatto delle apparecchiature da laboratorio rimpicciolite e hanno un costo ancora troppo elevato. Il nostro sistema invece è molto innovativo e introduce dei concetti estremamente sofisticati che utilizza all'interno una miniaturizzazione di tutte le fasi del laboratorio attraverso una tecnica funzionalizzata estremamente sofisticata che si basa sugli aptari, e cioè sugli nucleotivi dei frammenti di DNA che sono altamente specifici verso il taro di proteina che vogliamo mostrare. Abbiamo una serie di brevetti internazionali già concessi che coprono la nostra tecnologia e abbiamo delle sfide da raggiungere come quella della misurazione della propolina I che ha delle concentrazioni estremamente basse nel sangue delle persone sane che si elevano soltanto di poco quando avviene un impatto di un carico. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie mille! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.